Ho espresso attraverso via telefonica, attraverso whatsapp al sindaco della città di Durazzo e al console con il quale siamo in contatto quasi quotidiano tutta la nostra solidarietà per questa drammatica vicenda del terremoto di Durazzo e dell'Albania siamo in contatto con due città oltre che Durazzo che è uno dei principali porti dell'ex Jugoslavia, dei Balcani anche con un'altra città con la quale stiamo costruendo un rapporto di amicizia perché ahimè sono diversi morti, molti fabbricati caduti e quindi veramente siamo molto dispiaciuti, un po' anche commossi e preoccupati perché insomma va tutto il nostro appoggio la nostra solidarietà, la nostra amicizia per un popolo che ha già comunque le sue difficoltà.